Invece non per il cazzo che è... Perchè il 2 l'ha schivata scusa? Su X? Ma si potrà remappare credo Sì, sì, sì Stai fermo un secondo Dai, sei fermo, cazzo Va bene L'ha preso? Sì Perchè non ho shot quella roba lì Oh, ma allora? Ma com'è? No Cazzo tutta la fase me la so becchata io Cazzo tutta la fase me la so becchata io Sì 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 Mi posso curare? Grazie Troppo presto Normale ce l'ha con te Mio dio colpo Che stava a fa? La 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 Devo prenderla Ok ce l'ha con te Mi prendo un pacchettino di munizioni Che stava succedendo qua? Sì Palline Un'altra Questa ce ne è una C'è una Pallette pure qua Ma mi ero Crouchato Vabbè Cazzo Ma sì vabbè Ma ho girato dall'altra parte Ero girato dall'altra parte opposta Ma porco zio dai Ma non è possibile Buono Dove cazzo sono Che sta succedendo No Ti ringrazio All'esplosione dopo Dove sei? Eh qua Eh sì ciao buonanotte Sveglio sempre qua Sveglio sempre qua Ti prego Oddio Spazzata No Il palletto mi shotta adesso A parte c'è ancora il resto Ok Ce l'ho fatta Palletto Non allontanarti Zittana Onda d'urto Dopo Spazzata Dopo Bisogna i colpi Ho sbagliato No Ho spregato la cosa Io l'ho spazzata dopo Sveglio sempre qua Vos Sveglio sempre qua Ce l'hai? Ho andato urto dopo Ce l'hai? Let's go! Porca troia Easy Easy Spara, spara, spara Che mo c'è un'altra fase Ma che spara Easy cazzo Easy